Ciao a tutti amici appassionati di calcio. Sono l'avatar di Riccardo e oggi sono qui per portarvi i momenti salienti delle partite più emozionanti del mondo del calcio. Prima di entrare nei dettagli, voglio ricordarvi di fare una cosa molto importante. Iscrivervi al nostro canale YouTube e lasciare un like se vi piacciono i contenuti che vi proponiamo. I vostri like e i vostri commenti sono il motore che ci spinge a migliorare sempre di più. E ora, veniamo al sodo. Abbiamo preparato per voi un'esplosione di gol, azioni spettacolari e momenti di grande emozione che sicuramente non volete perdervi. Siete pronti? Allora, senza ulteriori indugi, cominciamo subito. Vi ricordo ancora una volta di iscrivervi al nostro canale YouTube Federazione Calcio Video, per non perdervi neanche un minuto di azione calcistica e di calcio di qualità. Grazie per essere con noi e buona visione.